A supermercato fanno questi carrelli di merda, aia! Oh, e tu piazzosi? Che c'hai in mano? Un telefonino? No, Maria ti salvano le foto subito perché li deve pubblicare sul blog, veramente! Dammi quel telefonino se io incazzo con una bestia! Dai, 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 dai! Dove sei che da andare, brutto paparazzo, brutto paparazzo! Vedi, guarda che io faccio il pugilato, eh! Sì, al centro anziani, al centro anziani! Tiè! Oh! Te l'avevo detto che sono meglio di Rocky 21! Eh, non l'ho vista! Oh!